Ma no, ma no, per carità, vedi cara, io non capisco tutto questo parlare di sesso, di angoscia, di nevrosi, ma no, no, no! Per me l'amore è una cosa normale, sì, uno lo può fare con chi vuole, donne, uomini, animali, caloriferi, va bene tutto, ma solo come spiegare, io con te, insomma io con una donna, io con una donna mi sento, mi riconosco, mi ritrovo, mi invento, mi realizzo, mi rinnovo, mi miglioro, perché io con una donna mi innamoro. Io mi innamoro, perché voglio dire questo, questo mio corpo, cioè praticamente mi spiego meglio, scusa cara, ecco, vieni, vieni, vieni un attimo, ecco, tu sei qui davanti, no? Bello, stupenda, meravigliosa, così. Allora io subito abbraccio e queste mie spalle, questo mio corpo stimolante, queste mie ipeliche eccitazioni, è tutta una roba, Dio come mi amo! Io con una donna ho più coraggio, mi accarezzo, mi tocco, praticamente mi corteggio, mi incammino, verso il letto, e penso a dopo, perché io con una donna mi scopo. Oh, che potenza! Come sto bene, fratello! Una bestia! Beh, chi è questa qui? Da dove viene? Ero qui che mi amavo, mezza nuda, senza sottano. Cosa vuoi? Vuole i bacini, la puttana! Sì, d'accordo, d'accordo, sono un po' egoista, certo, ma non è mica sempre una qualità negativa, no! Per un artista, per esempio, è essenziale. Lei sarebbe giusto, mi disse un critico, è distaccato e egocentrico, dovrebbe solo essere un po' più serio. Cerchi di sensibilizzare il dolore, la disperazione. La faccia è abbastanza patita. Lei è nato per fare la persona colpita da grave lutto. Ma mi raccomando, soffra! La cultura lo esige. La cultura. Ne ammazzate più la cultura della bomba atomica. Grazie a tutti. Applausi. Grazie.